Contare gli incidenti avvenuti ad Eboli alla rotatoria di Cioffi è purtroppo operazione molto facile. Per i mortali poi, anche se si parlasse di una sola unità, sarebbe un computo fin troppo alto, ma lì il numero non si ferma ad uno. L'ultimo accadimento che ha visto la morte di tre persone, marito, moglie e madre di lei, è tale solo in mero ordine cronologico, ma il prossimo, perché avverrà, sarà l'ennesima cronaca di una morte annunciata. Sul fatto dei due coniugi e dell'anziana, si sta molto dibattendo perché pare che i tre fossero stati dirottati da Agropoli all'ospedale di Battipaia, dove la donna avrebbe trovato soccorso. Motivo questo dell'alta velocità raggiunta dall'auto, che si è poi ribaltata. Da dire, c'è una cosa. L'ultimo incidente dell'aprile scorso, con un'altra auto che si è ribaltata nello stesso punto, aveva causato la rottura del guardrail, che era visibilmente piegato. Negli ultimi mesi qualcuno ha fatto qualcosa? Assolutamente no. La struttura è rimasta così, piegata verso il basso. L'alta velocità dell'auto, forse una distrazione, forse la fretta di voler portare la suocera in ospedale, hanno provocato l'impatto e lo stato delle cose ha fatto il resto. Il guardrail è diventato una rampa di lancio per il mezzo, che si è alzato per poi cadere rovinosamente al suolo e capovolgersi più volte. La domanda che molti si fanno adesso è semplice. Come semplice? È la risposta. Si poteva evitare? Assolutamente sì. Se fosse stato aperto il pronto soccorso di Agropoli, forse non ci sarebbe stato quel viaggio della speranza. Se il guardrail fosse stato riparato, forse non ci sarebbe stato l'incidente. O in generale, se la rotatoria fosse stata costruita con dovizie e senza deviazioni, si sarebbero evitate altre morti. Quei secchi ma, però, non si fa la storia e dunque non possiamo muovere accuse, ma di certo si poteva lavorare meglio. Adesso, purtroppo in ritardo, la soluzione è intervenire sul tratto e rifarlo completamente. I dati sono inquietanti e incontrovertibili.